C'è anche un campano tra i quattro lavoratori che risultano ancora dispersi alla centrale idroelettrica di Bargi, al lago di Suviana, esplosa ieri pomeriggio. Si tratta di Vincenzo Garzillo, 68 anni, di Napoli. Il suo nome è stato confermato dalla prefettura di Bologna, al pari degli altri tre, Paolo Casiraghi, 59 anni di Milano, Alessandro D'Andrea, 37 anni di Pontedera e Adriano Scandellari, 57 anni, nato a Padova e residente a Mestre. Ad esplodere, secondo le ricostruzioni, una turbina all'ottavo piano ribassato, la struttura scende sottoterra per 60 metri, mentre al nono piano si è registrata un'inondazione dovuta a un tubo di raffreddamento della turbina che ha lagato il locale per parecchi metri. Il bilancio, oltre ai quattro dispersi, parla di tre morti e cinque feriti gravi. Garzillo è in pensione da un anno e ha un profilo professionale alto, davvero esperto, quello di commissioning manager. E' quanto si apprende da fonti sindacali, secondo cui, quando lavorava per Enel nella centrale di Presenzano, in provincia di Caserta, si occupava della riattivazione dei macchinari delle centrali idroelettriche. Compito che da un anno svolgeva per la lab engineering ditta di Ortona, che si occupa di metanodotti, impianti di perforazione, produzione di olio e gas e di tecnologie innovative. Nella sua qualità di esperto era stato mandato a Suviana per supervisionare alle operazioni di riattivazione delle macchine. Nell'esprimere ancora profondo cordoglio e vicinanza a tutte le vittime e alle loro famiglie, Enel Green Power continuerà a dare ogni forma di collaborazione alle autorità preposte per accertare i fatti. Lo comunica la stessa società energetica, il cui amministratore delegato, Salvatore Bernabei, viene sottolineato in una nota, si è recato immediatamente sul luogo per coordinare di persona le attività aziendali in raccordo con le autorità competenti.